Ciao ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale di Alice in Shot, dove parliamo di fotografia analogica. Che differenza c'è tra una reflex e una point and shoot? È una cosa molto importante da capire, perché sono davvero due mondi diversi. Quindi oggi, nel nostro video, parliamo delle differenze tra la reflex e la point and shoot. Allora, innanzitutto, dire che le differenze tra una reflex e una point and shoot riguardino tutto, è un po' riduttivo, però è effettivamente così. Sono due cose completamente diverse. L'approccio alla fotografia è diversa, la sensazione che hai tra le mani, è tutto completamente diverso. Quindi la scelta tra reflex e point and shoot è molto legata anche a che cosa vuoi farci con la tua fotografia, che cosa vuoi farci proprio con la macchina fotografica. E secondo me è importante, in una fase di orientamento, capire queste differenze abissali tra il mondo della point and shoot e il mondo della reflex. Quindi, innanzitutto, andiamo a vedere come sono fatte. Questa è una reflex, questa è una reflex, questa è una reflex. Anche questa è una reflex, questa è una reflex, questa è una reflex. Questa è una point and shoot, questa è una point and shoot, questa è una point and shoot, anche questa è una point and shoot. E al loro modo, pure queste macchinine sono point and shoot. Vedete quindi, già proprio a una prima a pelle, sono proprio due robe molto molto diverse. Disclaimer, noi oggi parleremo di reflex e point and shoot 35 mm, che sono due tipi di macchine fotografiche. Le macchine fotografiche ce ne sono di tanti tipi, reflex, point and shoot, le ottiche, quelle medio formato, ci sono le telemetro. Noi parliamo solo di reflex e point and shoot, ok? Se sapete già la differenza tra queste due cose e avete deciso di comprarvi una reflex, ma non sapete bene da che parte cominciare, che volete un po' una guida per orientarvi sulle funzionalità più importanti, vi rilascio... È qua però, vero? Eh sì, eh sì. Vi rilascio il mio video dove vi spiego come orientarvi nella scelta delle reflex. Se invece siete ancora indecisi su se prendere una reflex o una point and shoot, rimaniamo qua e cominciamo. Innanzitutto, la differenza più grande proprio da un punto di vista anatomico della macchina fotografica è che la reflex contiene uno specchio ed è per questo che si chiama reflex. La reflex, infatti, se andiamo a dissezionarlo un attimo, possiamo vedere che qua dentro è uno specchio. Uno specchio che quando fotografo si alza, ok? Questo specchio è importantissimo perché ci permette a noi fotografi di vedere dal mirino esattamente quello che vede l'obiettivo perché la luce e l'immagine entran qua, si specchia in questo specchio, sale su, si specchia nello specchio del pentaprisma che c'è qua dentro e va nei nostri occhi, ok? Mentre invece le point and shoot non contengono uno specchio, quindi ciò che noi vediamo da qui quello che vediamo da qui e non è quello che vede l'obiettivo, ok? Per carità la differenza tra questa e questa è davvero minima però è comunque una cosa molto importante da capire già la meccanicità, il come sono fatte dentro, sono molto diverse. Il fatto poi che io con le reflex riesca a vedere da qua esattamente quello che vedo l'obiettivo mi permette la messa a fuoco. Questo è molto importante perché nelle reflex io guardo qua dentro e riesco a mettere a fuoco perché quello che vedo l'obiettivo è esattamente quello che vedo io. Importantissimo invece, con le point and shoot non è così, tu con le point and shoot non puoi vedere che cosa stai mettendo a fuoco, ok? Anche con la Chinon che è molto brava a mettere a fuoco, ha però il fuoco automatico e io non so che cosa sta mettendo a fuoco. In questa macchina fotografica nel mirino c'è una freccia che si muove dicendomi guarda che stai mettendo a fuoco il primo piano, guarda che stai mettendo a fuoco a metà, guarda che stai mettendo a fuoco l'infinito, ok? È soltanto un'indicazione, io non vedo effettivamente che cosa sta mettendo a fuoco lei perché io semplicemente dal mirino vedo qui attraverso il buchino. Anche con questa qui, io vedo da qui, non vedo dall'obiettivo. E anche questa che è un po' più performante rispetto alle altre, io comunque non vedo che cosa sta mettendo a fuoco. Anche qua c'è un'indicazione all'interno del mirino che mi dice stai mettendo a fuoco qui, qui o lì ma è sempre un po' affidarci alla macchina fotografica, ok? Il fatto del fuoco è molto importante perché secondo me il fuoco ti dà un raggio di creatività molto molto alto. In generale le macchine fotografiche tendono a mettere a fuoco il primo piano perché di solito si mette a fuoco il soggetto ma se voi volete fare delle cose un po' più creative e mettere a fuoco il dietro piuttosto che il primo piano è molto più difficile farlo con una point and shoot piuttosto che con una reflex, ok? Poi parliamo del fatto, le cose che puoi fare in manuale. Allora, discline. Esistono reflex che sono completamente automatiche ma rimangono comunque reflex perché hanno lo specchio dentro perché hanno un obiettivo che si può staccare perché hanno magari la messa a fuoco manuale, ok? Ed esistono anche point and shoot che non sono del tutto automatiche ma puoi cambiare qualcosina, ok? In generale però nelle point and shoot ci sono molti più automatismi rispetto che alle reflex. In una reflex normale che non sia tutta automatizzata puoi cambiare il fuoco, puoi cambiare l'iso, puoi cambiare i tempi di scatto, puoi cambiare pure l'apertura di diaframma. Sono quattro cose che vi permettono di fare tutto quello che volete. La reflex è la macchina fotografica che vi dà la possibilità di avere più creatività possibile, ok? Più creatività possibile. È vero che le point and shoot quindi possono avere delle cose manuali ad esempio la C non ti permette di cambiare l'iso. Io magari metto un rullino da 100 iso dentro, però voglio sovresporlo e quindi le imposto il 50 iso. La point and shoot di solito vi dà molto meno range di creazione. E anche se una point and shoot potesse farvi cambiare il tempo di scatto, i diaframmi e anche l'iso, o il fuoco non potreste metterlo da voi perché fa tutto lei, perché non avete un obiettivo manuale attaccato alla macchina fotografica, ok? Avete lo zoom, ok? Molte hanno lo zoom, molte point and shoot hanno un sacco di funzionalità che voi potete mettere, ma è la macchina che fa tutto. Voi semplicemente state comunicando alla macchina di fare qualcosa e poi la macchina farà lei. Mentre invece con la reflex, la reflex è proprio uno strumento, è proprio un mezzo che vi gestite tutto voi. Poi, altra differenza abissale tra point and shoot e reflex, che è una cosa che si può capire subito, appena le vedi, sono chiaramente la grandezza e la pesantezza. Potete capire che una point and shoot è molto più tascabile, molto più portabile in giro, pesa molto meno perché, essendo più recenti, le point and shoot sono spessissimissimo fatte di plastica, mentre invece le reflex, tantissime, sono fatte con componenti di plastica, ma anche in metallo, quindi pesano di più e soprattutto il fatto di avere un intero obiettivo davanti occupa molto più spazio e soprattutto molto più pesante. Quindi anche qua c'è da considerare la situazione in cui lo si vuole utilizzare. Un'altra cosa importante è che spessissimo le point and shoot hanno il flash incorporato, mentre invece queste macchine fotografiche non hanno il flash incorporato e dovete attaccarcelo o a distanza, oppure un coso che sta su così e occupa ancora più spazio e è un'altra cosa in più che bisogna portare. Un'altra differenza abissale tra la point and shoot e la reflex, proprio a livello ritorico, possiamo dire così, ontologico, è proprio la filosofia che ci sta dietro queste due macchine. La point and shoot, proprio per il fatto che si chiama point and shoot, punta e scatta, è una macchina con più automatismi apposta, non perché debba essere più semplice, ma perché è fatta per fare una fotografia molto più veloce, molto più istantanea, molto più... senza doverci pensare troppo, ok? Mentre invece le reflex nascono per essere fare una fotografia un po' più pensata. Anche solo mettere a fuoco è una roba lunghissima, quindi devi prenderti i tuoi spazi e i tuoi tempi per fare delle foto con una reflex. Sono due mondi quindi completamente diversi e anche l'approccio proprio alla macchina fotografica, al mezzo, vero e proprio, è una roba completamente diversa. Io trovo che la reflex sia proprio l'icona della fotografia analogica, anche il fatto di come la devi tenere tra le mani, il fatto che devi mettere a fuoco facendo questo movimento, il fatto che per caricare la foto devi fare questo movimento, sentire questi suoni. Questa è come mi immagino la fotografia analogica. E se mi conoscete, avete visto i miei video, sapete che io ho un debole per la materialità vera e propria della fotografia analogica, del fatto di poter sentire i meccanismi dentro e sapere che c'è poco di lavoro della macchina fotografica in sé, che sei tu che attivi la macchina fotografica, sei tu che la muovi. E questa è una cosa che secondo me è fondamentale nella fotografia analogica, perché la fotografia analogica ti affascina e ti ammalia anche per tutto questo aspetto, questa componente. Mentre invece l'approccio a questo tipo di fotografia con la point and shoot, forse io potrei definirlo un po' più asettico, lo potrei definire un po' più distaccato, non c'è quel contatto con la macchina fotografica che hai con la reflex. Uno perché sono più piccoline, sono meno ergonomiche, e poi perché appunto, perché molte cose le fanno loro, tu semplicemente devi premere un bottone, puntare e premere un bottone. Quindi io sono di parte. Sono due modi proprio di approccio alla fotografia, proprio diversi. Ed infine, un'altra cosa importantissima da sapere, che fa nella scelta di una macchina fotografica, è che le point and shoot sono decisamente più economiche rispetto alle reflex. Ci sono point and shoot che costano tanto, ma ci sono point and shoot che costano anche sui 15-20 euro che funzionano. Mentre invece una reflex normale, meno di 50 euro non la trovi, anzi 50 euro è già pochissimo. Poi di questi tempi, insomma. Adesso, la domanda da un milione di euro è da quale cominciare a fotografare? Da una reflex o da una point and shoot? Quando andate a decidere con che macchina cominciare, dovete prima aver chiaro qual è l'obiettivo che volete raggiungere. Volete cominciare la fotografia analogica perché vi diverte, e perché vi piacciono le foto, e perché volete fare qualche foto a volte, nei viaggi, con gli amici, durante le feste? Allora ho un conto. Se invece volete utilizzare la fotografia analogica per fare delle foto che rispecchino il vostro stile, che rispecchino il vostro modo di vedere il mondo, intendo quel tipo di fotografia che quando rivedete la foto, non pensate alla situazione in cui l'avete scattata, alla festa, a retroscena, non pensate alla situazione, ma la vedete e pensate al fatto che quella sia una vostra creazione, della vostra fantasia. Ripensate al fatto che voi, attraverso quella foto, avete in qualche modo modellato la realtà, ok? Quindi è importante sapere l'obiettivo. Non pensate, comincio dalla point and shoot perché è più facile, e poi mi sposto alla reflex perché è più difficile. Non è vero. Sono proprio due modi di scattare diverso. È come dire, comincio a giocare a ping pong perché poi un giorno vorrei giocare a tennis. Sono due cose diverse. Il ping pong e il tennis sono due sport diversi. Hanno entrambi una racchetta, ma sono due sport diversi. Completamente diversi, ok? Bene ragazzi, il video è questo qui. Spero di esservi stata utile, spero di avervi dato qualche pillola, qualche consiglio per cominciare a orientarvi in questo mondo vastissimo e oscuro che è la fotografia analogica. Se avete domande, considerazioni o qualsiasi altra cosa, mi raccomando scrivetele tutte nei commenti. Io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, e se conoscete qualcuno che magari è interessato all'argomento, mandategli questo video e caldeggiatelo anche a lui o anche a lei di iscriversi al canale perché è la cosa più importante di tutte. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video e fatemi sapere nei commenti con che macchina avete cominciato voi a fotografare oppure se volete cominciare a fotografare, con quale macchina fotografica state pensando di cominciare con noi. Adesso ci salutiamo, grazie di aver visto questo video, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!